Con Domenico Fiasella, detto il Sarzana, e Camillo Pucci, Luigi Belletti completa degnamente la triade dei pittori che onorano l'arte sarzanese. Di temperamento soffuso ad una suave mestizia, crebbe in quell'atmosfera classica romantica che rende ogni cosa meravigliosamente caratteristica, la quale andava fermandosi nella prima metà dell'Ottocento. Fu affreschista e ritrattista apprezzato. I suoi dipinti gli procurarono non poche soddisfazioni ed onori, ed anche egli, come il Pucci, ebbe l'odi e commissioni dal re piemontese Carlo Alberto. Nella Basilica di Santa Maria, in Sarzana, dove sono raccolti quadri ammirevoli, vi è una grande tela collocata nell'abside e sapientemente restaurata dal pittore Gino Triglia dopo gli squarci lasciati dalla furia bellica. L'argomento che ha servito per l'impostazione di quel quadro giovanile, eseguito dal Belletti nel 1835, quando aveva appena 22 anni, gli è stato suggerito da un avvenimento storico del Medioevo. E raffigura l'incoronazione consacrata dalla mano del pontefice sarzanese Niccolò V di Federico III, l'imperatore che ha dato a Sarzana la sovranità territoriale, dichiarandola succeduta all'antica Luni. Da Corrado Martinetti, mia terra colorata di memoria.